dei copti e nel toponomastiche dell'egito ormai il 90 per cento della popolazione non sono islamizzato ma con islam vengono arabizzati allora cultura e lingua vanno insieme ma allora c'è anche una questione di identità comunitaria dipende da quant'è grossa la comunità allora se c'è un'identità comunitaria ci possono essere conflitti guerre ci possono essere molte cose connesse però la dialettologia diceva una sua nella precisa ricostruzione storica se tu non conosci il copto l'antico egiziano non riesci a ricostruire la toponomastica dell'egitto o del sud è impossibile poi deve riconoscere che il berbero fa parte di un altro sottogruppo del semitico non quello del arabo che è collegato con l'etiopico e con l'ebraico e con il seriaco allora il berbero con le lingue subsacrane fa parte del gruppo afroasiatico ma un'altra parte gli arabi continuano a dire che il berber c'è il complesso di berbero è un complesso di dialetti mentre e nord africa si parlano lingue arabe diverse cioè l'arabo di egitto l'arabo del sudan l'arabo di marocco sono delle lingue diverse per loro cioè capovolgano la nostra con il nostro concetto di lingua e dialetto è difficile come in internazionale parlare con studiuti arabi perché ci hanno le categorie sono rovesciate rispetto alle nostre categorie mi è successo varie volte così è difficile comunicare dal mondo è una cosa in città si può anche studiare non solo a dico da questa cultura agricola molti paesi hanno anche un passato proprio industriale cioè possiamo studiare la lingua delle miniere dell'antica roma se vogliamo da dove viene il linguaggio della metallurgia il roma in grecia ferrum è un noto parola semitica o afrasiatica non ha nessun motivo di essere nelle lingue europee molte altre parole per a connesso con i metalli più preziosi dell'antichità ecco per esempio anche il concetto di argento da uno slano sia fino al tedesco silva l'inglese silva anche queste vengono da fonti seriache e babilonesi neobabilonesi la parola come si dice risosso in greco si sa l'oro è cresciuto dello semitico eccetera allora c'è un contatto è un giro di parole di varie diretti di varie lingue dell'antichità anche per le proto industrie che poi provocano anche nel dopo il 300 1300 in europa c'è una ripresa del rinasce la proto industria che eventualmente porterà l'industrializzazione del 7 800 anche se l'italia quando è che comincia l'industrializzazione 1940 mentre germania l'inghilterra è già cominciato nel 1780 e come il concetto di stato nazione siamo tutti in europa parlando di stato nazione va bene grazie grado basta avere il tuo associato di togliesce caccio le bratture a dove lo assi stato nazione è discusso a livello europeo francesi inglesi da altri da 1870 1873 esattamente cento anni dopo arrivo dal vocabolo italiano del vocabolario si comincia a discutere metà degli anni 70 che cosa è lo stato nazione quando gli altri paesi hanno già deciso cos'è lo stato nazione e stiamo discutendo dove sta andando lo stato nazione che bisogna ha di una lingua unica standardizzata che che possiamo vedere nel dichiarazione dei monarchi inglesi e francesi tra 400 e 500 e 600 vogliono un'unica lingua ecco è come la questione in francia allora fino a certo punto le ditti si possono fare in provenzale e in francese ovviamente il franciano che per essere tecnici il franciano è la lingua di privilegio non è provenzale provenzale probabilmente sta diventando ciò che noi chiamiamo un dialetto nel 600 scompare dagli editi reali non c'è più necessità nessuno dice niente ma io vedi che c'è più necessità di tradurre gli editi reali in provenzale questo è uno dei problemi storici perché sparisce una lingua e la lingua diventa dire nel nostro con la nostra concezione anche la proto la proto se vogliamo proto industria si può studiare bene in calabria con i vecchi mestieranti che lombardia i vecchi mestieranti sono diventati industriali mentre in calabria sono scomparsi e basta perché all'unificazione i soldi del regno sono andati altrove per aumentare speculare nelle prime industrie dal nord italia dopo la unificazione si comincia così come la toponomastica vieni cambiato non capisci più infatti sull'aspromonte una volta io uso il nome ufficiale di un paese boom la non dovevo usare il nome ufficiale del paese dovevo usare la forma di rettale così come forma di rettale perché l'ho capito insomma e anche se uno va sulla sila sembra che i tembatti e toponomastica di origine tedesca e soltanto fraintendimento piemontese di parole normale calabria e ti viene da ridere ogni tanto perché chiedi di un posto nessuno sa dov'è perché lo chiamano in un altro modo non è una colpa loro allora la toponomastica come le cose delle proto industrie di di pignano paterno vanno studiate insomma al presente diventa un problema vabbè è un problema di identità da un lato che è un problema sociale di gruppo allora è un problema che va studiato da sociolinguisti etnolinguisti eccetera poi c'è un altro uso moderno che è molto interessante nuovo uso artistico che c'è già già pierro è un po' anti signano di questa cosa perché lui prende il suo dialetto nativo e le togli e tutte le cose che sono troppo particolari per usare il suo dialetto come se fosse l'italiano cioè non parla mai di piante specifiche che è una cosa stranissima perché nei dialetti si conoscono i nomi di mille due mille per piante e l'italiano nessuno conosce i nomi delle piante anche quelle che vendono fiori da noi usano usano le parole quasi scientifiche insomma e ti vendono basilico olandese e dico dove cresce il basilico inolanda mentre sogno da me cresce sul palcone inolanda non l'ho mai visto crescere no è la cosa che ti colpisce usano certi nomi per piante e se tu usi la parola fiori del campo fiori di campo ma noi fiori di campo hanno un nome i uri di ciù ci sono una cosa le altre sono altre cose ci sono i carduni che sono diversi eccetera eccetera cioè ogni ogni piante ha il suo specifico noi nella cultura quelli che vengono piante non lo sanno devono andare con nomi serbobotanici uso artistico moderno cinema poesia canti gruppi di canto eccetera e usare il dialetto come nuovo mezzo espressivo è una cosa diversa non è l'uso comunitario tradizionale del dialetto e sfruttare una cosa che è tradizionale per fare nuove forme d'arte e queste sono legittime è come pretendere che un pezzo di teatro un romanzo o un film sia storicamente corretto all'artista non è chiesto di essere storicamente corretto se vedi certe cose dici ma la storia non è questa tipo Braveheart che piace molto a Bossi dico questo non corrisponde a nulla questo non era un contadino era un conte c'è la differenza da un conte e un contadino cioè un conte aveva un esercito suo il problema era se portava questo piccolo esercito a far parte del grande esercito del suo re o no vabbè uno dice vabbè insomma se fai il film lo puoi fare quello che ti pare insomma cioè la storia non va rispettata nell'arte anche anche la lingua non può essere rispettata nell'arte puoi usare il codice che vuoi come Piero come Zanzotto come Piaggio Maringe eccetera l'Italia è pieno di esempi di gente che scrive nei dialetti ad altissimi livelli pensare al film Casanova hanno scritto il dialetto da Zanzotto è un ottimo livello di Veneziano e poi anche di Roma di Paese ho le poesie di Piero per esempio quel finto dialetto dell'infanzia che non è più il suo dialetto dell'infanzia perché l'ha già limato, 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 limato allora diventa un'altra cosa il futuro, ha detto anche il futuro se muore muore, se vive vive noi siamo qui non per fare la salvaguardia una lingua viva non ha bisogno della salvaguardia o vive o muore o viene succhiato dentro un'altra cosa salvaguardia si usa l'Académie de la France fa la salvaguardia di una lingua di Stato i francesi hanno un concetto molto rigoroso di Stato-Nazion Etat-Nazion allora l'Académie de la France serve per mantenere questa cosa nel linguaggio della burocrazia dell'amministrazione e tutto il resto anche per le questioni sociopolitiche e politiche il dialetto non serve un'Accademia per salvaguardia come vorrebbe la regione Calabria non salvaguardi un prodotto dell'oralità o vive con la propria dinamis con la sua propria dinamicità e con le proprie funzioni cioè l'uso di un repertorio molto molto complesso però c'è un uso lo vediamo con la lega eccetera c'è un uso di dialetto quando si dice che gli insegnanti devono imparare il dialetto del proprio paese devono essere nominati come insegnanti ci sono lecchie proposte delle leghe sono già scritte basta andare a leggere e produce dalla diglossia problematica italiana cioè esci e vai sulla sfonda del razzismo insomma c'è anche questo come pericolo è molto bordele anche il razzismo alcune dichiarazioni di questo tipo e poi reinventare il celtico per me che sono di un paese celtico e conosco bene una lingua celtica per me è avverante al massimo insomma va bene perché quello che loro dicono che il celtico non ha nulla a che vedere con la mia tradizione con la tradizione del mio paese allora forse dopo aver fatto un'introduzione così chiedo interventi interventi anche i vostri io ti avrei una domanda per entrati certo tanto la ringrazio per passaggio storico ebbè è necessario per il conflitto di lei diciamo io sono una generazione anzi la mia i miei genitori erano a cavallo tra me e mia nonna quindi i miei nonni perché si esprimevano solo il dialetto i miei genitori mi sono sforzati diciamo di insegnare me solo in italiano perché si trova che il dialetto in quel periodo negli anni settanta che sono nata io andava abbandonato in realtà poi io con i dati l'ho imparato adesso sono spesso con la mia collega in dialetto ne ho già laureato in due anni adesso mi chiedo anche la professoressa perché insegna in una scuola superiore spesso ci capita che gli studenti dell'università si esprimono solo essenzialmente in dialetto quindi fanno quasi uno sforzo in realtà ad esprimersi l'italiano quando si rivolgono a un docente ecco siccome si parlava di salvaguardia come di mantenere le tradizioni come lo fanno non fanno un uso spropositato del dialetto non avete nulla a favore della salvaguardia no 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 diciamo si parlava di salvaguardia io sono convinta che sia una perché la regione Calabria ne parla io sono convinta che il dialetto vada mantenuto è un valore diciamo però ecco come non usarlo in maniera spropositata ci sono contesti giusti no lo so no scusi no ma non ci sono è come un mio ex presidenza ma ci sono condizioni in cui usi il dialetto condizioni in cui non usi il dialetto e non consiglio di facoltà io lo prenderei in giro perché parlava quasi di dialetto di compresi e non fa queste cose sembra che questa distinzione adesso tra gli studenti non so se nelle scuole superiori si verifica la stessa cosa però non ci sia più cioè quanto rivolgersi in italiano quando invece rivolgersi in dialetto guardi io siccome così prima di risponderle vorrei salutare tutti i presenti e ringraziare la dottoressa Marino che mi ha coinvolto in questa esperienza e soprattutto mi ha dato la possibilità di stare per una seconda volta a fianco a tanto professor Tramberg che io ho conosciuto due anni fa quando tramite un'amica comune l'ho invitato a presiedere il tavolo dei relatori della prima edizione del festival del dialetto è stata un'esperienza meravigliosa perché ha fatto una lezione magistralis veramente sapiente che ha impreziosito quel convegno in quella serata quindi io conoscevo il professor Tramberg attraverso i suoi studi attraverso i suoi scritti così come la professoressa Natalonna quindi io conosco i loro prodotti i loro contributi veramente eccellenti è chiaro che nel risponderle io le risponderò con la mia esperienza io mi ero portata dei dati perché è chiaro che non potrò che dire qualcosina rispetto a quanto dice il professor Tramberg per chiarità però mi ero portata dei dati per risponderle guardi caso sono adeguati e 50 anni fa l'Italia parlava dialetto per la maggior parte si parlava dialetto nel 2006 l'Istat constata che il 55% degli italiani in famiglia in casa parlano dialetto allo stato puro col passare degli anni la popolazione cambia ha un'inversione di tendenza e comincia a parlare sempre meno dialetto mentre tra gli studenti questo dato è invertito cioè mentre la popolazione parla più dialetto gli studenti più italiani gli studenti parlano più dialetto sono varie le motivazioni dipende dal gruppo sociale dai momenti in cui ci si trova dipende dalla psicologia dell'individuo nel gruppo nella maniera di esprimersi e comunque diminuisce dal 2006 ad oggi tra gli studenti diminuisce l'uso esclusivo dell'italiano soprattutto quando si trovano con persone con le quali non hanno nessuna confidenza sembra che io stia dicendo delle cose che si contraddicono ma l'istet è seria a colloquio con gli estrani l'uso esclusivo dell'italiano passa dall'89,3% all'86,8% quindi in famiglia è comprensibile perché con i nonni con i genitori si possono utilizzare le frasi in dialetto o le parole in dialetto invece in compagnia degli amici il tasso di studenti che parlava in dialetto era di 4,3% nel 2000 nel 2006 era del 5% quindi c'è un aumento in questi ultimi anni proprio del parlare in dialetto soprattutto tra gli studenti allora io ravviso questa inversione di tendenza soprattutto nel fatto che il dialetto che era considerato una lingua di serie B era considerata la lingua dei cafoni lo diceva magnificamente prima il professore e poi c'è stato un altro motivo per cui noi abbiamo abbandonato il dialetto e ci siamo sempre più distaccati dall'usare il dialetto non solo perché era considerata lingua dei cafoni ma perché noi ci siamo arrivati gradualmente a questo passaggio negli anni sessanta la scuola italiana aveva vietato già dalla scuola primaria dalla scuola dell'infanzia l'uso del del dialetto e io ravvisavo in questo in questo fatto una grossa mutilazione rispetto alla lingua un grave errore proibire il dialetto ai bambini in età scolare mi appuntavo qualcosa rispetto a questo io dico si distruggeva l'identità attraverso la destrutturazione dell'universo simbolico prescolare costruito attraverso la lingua materna lo aveva affermato benissimo Tullio De Mauro perché attraverso i dialetti si riscoprono vicende memorie passioni valori e un immenso patrimonio affidato soprattutto alla tradizione orale che rischia di subire perdite irrecuperabili nei primi anni sessanta Italo Calvino sulle pagine del giorno parlava di un declino del dialetto non credo che il professore mi smentisce oggi queste affermazioni sono in parte superate allora c'era Calvino era toscano figlio di Toscana infatti quindi questa questo non uso la parola recupero perché abbiamo sentito però volgarmente usiamo sempre dire recuperiamo il dialetto è un'operazione di conoscenza e di tutela del dialetto che è necessaria mi avviso sia con l'opera scientifica dei glottologi degli accademici ma di pari passo bisogna dare rispetto anche ai ricercatori agli etno-antropologi che fanno questa ricerca che può essere utile agli accademici io vedo un lavoro non dico parallelo ma complementare tra la ricerca che posso fare io con il mio festival del dialetto con dei lavori che facciamo io uso volutamente adesso la parola recupero recupero in che senso partendo dal presupposto che il dialetto si conserva parlandolo perché mi è raccontata proprio quell'archeologia delle parole che ha detto il professore prima ha ragionissimo è inutile che noi raccogliamo queste parole quindi recupero non in quel senso se no veramente facciamo archeologia delle parole che non servano a niente facciamo un museo delle parole anche se io ho tutta una concezione mia molto dinamica e molto attiva e noi facciamo un lavoro di ricerca perché la conoscenza del dialetto la sua tutela e la sua valorizzazione passano a mio avviso attraverso ricerche fatte sul campo e abbiamo costituito per questo nel nostro piccolo che è l'area del pollino perché è inutile non siamo accademici non siamo glottologi non ci possiamo permettere di allargare lo sguardo di marcare oltre l'orizzonte e quindi abbiamo focalizzato un'area in modo da poter conoscere per poi valorizzarle queste parole e abbiamo cominciato dalla cultura materiale professore abbiamo cominciato dagli attrezzi contadini tramite elettrofotografia li abbiamo immortalati diciamo e poi abbiamo cercato rispetto alle aree linguistiche quindi alle parole più utilizzate di definirle secondo non solo i maggiori dialetti parlati ma in Calabria ma anche attraverso le lingue minoritarie anche se è preciso che c'è grande differenza tra dialetto e lingue minoritarie però sia il dialetto che le lingue minoritarie necessiterebbero di una legge su cui bisognerà riflettere perché la legge sulle lingue minoritarie c'è ma va rivista la 482 mentre sul dialetto non abbiamo una legislazione che tuteli il dialetto stesso ogni nazione ha il dovere e il diritto secondo norme costituzionali di tutelare conservare valorizzare e promuovere la lingua di appartenenza anche se ripeto la cultura dei dialetti resta ancora un campo sommerso che non presenta alcuna forma di garanzia geolidica la lingua è una parte della complessità dei processi etno-antropologici di una comunità il dialetto è già di per sé componente essenziale di una lingua madre che assorbi il disegno socializzante di un territorio nelle sue direttrici storiche e moderne la storia delle lingue è dentro l'identità degli idiomi che caratterizzano un territorio sia dal punto di vista storico geografico che linguistico vero e proprio è necessario ripensare alla cultura dei dialetti non solo attraverso una chiave di lettura antropologica ma anche ripeto attraverso un percorso giuridico che ponga le basi per una vera e propria legge di tutela dei dialetti che non sia naturalmente la stessa che tutela le lingue minoritarie che comunque vale pensata la conoscenza dei dialetti che interessano tutto il tessuto nazionale è cosa ben diversa dalle tutele delle etnie e delle lingue di minoranza l'Italia è una nazione che si caratterizza culturalmente proprio per la varietà delle forme dialettali da non confondersi con altre lingue il dialetto è una parte integrante del costume e della tradizione di una regione ma anche di territori all'interno di una stessa regione ci sono varianti nei dialetti della lingua italiana che mostrano una vera storia la storia vera di una comunità ben definita all'interno della comunità e della identità e della identità nazionale ecco perché occorre salvare i dialetti come patrimonio culturale partendo da un presupposto preciso che è quello che devono restare i dialetti stessi dei modelli in una visione tra recupero delle tradizioni e letture antropologiche ma è chiaro che i dialetti appartengono alla cultura italiana sono dentro la storia della nazione e hanno fatto la lingua italiana lo si diceva prima anche se l'italiano e il dialetto hanno un diverso ruolo sociolinguistico il dialetto nasce nel contesto del tessuto culturale italiano quindi tutelarlo significa anche rafforzare la stessa lingua italiana che deriva appunto da modulazioni dialettari mettiamo da parte il pregiudizio che il dialetto sia una lingua di serie B senza di timore di sembrare poco colti o cafoni come dicevo prima ogni regione presenta le sue caratteristiche e dal punto di vista linguistico si pone con delle precise queine espressive la piccola identità che è quella della comunità ristretta entra nella grande identità che è quella geograficamente più estesa e politicamente più sezionata in una dimensione nazionale c'è da dire che il dialetto va tutelato come patrimonio dell'identità di un territorio all'interno di una politica di difesa delle tradizioni dei costumi e delle geografie di un Mediterraneo ormai diffuso che è sempre più articolato anche dal punto di vista delle lingue e delle eredità ci sono dialetti da considerare come veri manifesti del mosaico linguistico nazionale che vanno salvaguardati per la loro importanza storica per il loro contributo letterario per il loro arricchire l'eredità della stessa lingua nazionale fermo restando che la lingua italiana non perda la sua struttura originaria per favorire inserti che provengono ad altre forme di meticciato linguistico la tutela della cultura dei dialetti può rafforzare la storia la tradizione le culture nazionali italiane il dialetto è patrimonio condiviso di una di una nazione che è parte integrante nei processi integrativi tra lingua storia e identità l'italia ha una sua identità ma vive negli intrecci linguistici ed antropologici che ci riportano ad un'antropologia delle radici il dialetto come bene culturale e espressione dell'intreccio tra identità eredità e appartenenza nella consapevolezza dell'incontro tra la cultura delle parole con un preciso vocabolario e le culture strutturate storiche la lingua e il tramite attraverso il quale la comunicazione si fa trasmissione non solo di un vocabolario reale e metaforico ma si focalizza come recupero di valori in ogni contesto epocale la lingua come manifestazione letteraria ha dovuto sempre fare i conti con una visione applicativa della lingua e delle lingue parlate e scritte nei diversi territori il passaggio dall'oralità alla scrittura ha segnato delle linee marcanti in cui la letteratura e in epoca contemporanea l'antropologia della letteratura si è dovuta confrontare con l'applicazione e quindi la diffusione di una parlata l'antropologia aiuta una lingua a non smarrirsi e a non morire io mi fermerei qui perché credo che il prof abbia molto da dire io penso che ci sia una grande necessità di tutelare il dialetto di tutelare questo grande patrimonio che abbiamo soprattutto nei confronti delle influenze seppur positive ripeto questo concetto che vengono da altri mondi da altre realtà e da altre culture il dialetto per noi è un bene culturale quindi il nostro lavoro va in funzione di un recupero di un bene culturale di una conoscenza soprattutto e di una comunicazione per questo abbiamo creato dei laboratori in cui la parola cioè l'oralità e quindi l'ascolto della lezione esatta di queste parole dialettali siano un punto fermo cioè noi ci vorremmo affiancare gli accademici che fanno un lavoro scientifico ma noi puntiamo l'ho detto prima sul fatto che il dialetto si conserva parlandolo e quindi in vari luoghi noi andiamo a fare dei reading di poesia perché la poesia soprattutto ci rende conto di questa nostra tradizione di questo nostro patrimonio preziosissimo che non va perduto più che domande sono in realtà due curiosità la prima che già mi era suscitata dall'intervento del professor Trump riguarda le comunità linguistiche che lei anche ha citato cioè in Italia in realtà sono ben 12 quelle riconosciute e credo che qui il termine alla gloria le comunità minoritarie minoritarie sì e credo almeno è un mio pensiero che gli interventi di salvaguardia siano molto più giustificati riguardo a quelli dell'italiano dei vialletti dell'italiano proprio per il motivo perché questi dialetti in realtà qui non hanno una lingua tetto che fuga da tramite quindi ecco per questo motivo magari gli interventi di salvaguardia nell'amministrazione nell'estituzione o anche attraverso seminari siano molto più giustificati dall'altro canto per il dialetto italiano quello viene sempre alimentato dall'italiano anche il suo obrero lo diceva in un suo lavoro che in realtà anche non possiamo nemmeno parlare adesso di uno standard di italiano perché c'è una quasi una forma di semi standard cioè i confini tra dialetti e italiano standard si stanno leggermente assottiliando cioè questo anche in televisione se sentiamo l'italiano non è quello proprio quello concepito di italiano standard vuoi più uomo per citare un noto posso dire mezza cosa io sono i signori in affinito allora io quando sento parlare di salvaguardia e di come si può dire di attenzione da dare a queste problematiche mi arrabbio moltissimo perché una cosa che risulta evidente tutte le volte che io mi trovo a un convegno scientifico anche in una situazione radicale come questa è che la confusione regna sovrano se voi vedete gli articoli sul Corriere sulla Repubblica quindi quelli che vengono letti e che sono spesso scritti da nostri colleghi con i quali sono estremamente critica mettono in luce che noi non capiamo e non vogliamo capire il senso delle parole poi abbiamo usato lingua dialetto abbiamo usato conservazione la signora la signorina ha fatto la dottoressa ha fatto una situazione giusta diceva perché c'è un incremento del dialetto a parete la dottoressa ha citato l'istat si apre un po' l'istat è serissimo però l'istat è serissimo ma usa dei questionari che noi abbiamo ovviamente studiato che devono essere generali loro tra l'altro scorcolano centro no di tutta in la città però un sociolipista la prima lezione che farà in classe sarà quella di dire vedete che il paradosso tra quello che la gente dice di fare e quello che fa scientificamente quindi che dica io a casa parlo dialetto con gli amici ma anche un atteggiamento politico va interpretato va conto come dato ma non preso sul serio quindi il 75 il 37 il 24 sono dati statistici che vanno interpretati con attenzione e siccome noi andiamo sul campo cioè si è creata forse questo strano pretendimento che gli studiosi studiano i ricercatori stanno sul campo il professore credo che sia andato in tutti i paesi le contrade della Calabria ha consumato molte poi non c'è neanche il problema di dire noi prendiamo i dati di altri noi generalmente i dati li andiamo a cercare perché ci fidiamo un po' di più dei nostri dati per cui la domanda che vorrei fare a lei lei parla con la collega in dialetto avete lo stesso dialetto? ecco lei di dov'è? di dov'è? lei con un collega di Catanzaro parla dialetto? no con un collega di Reggio parla dialetto? no perché? penso che magari in Italia è diverso proprio il dialetto e perché è diverso? perché la Calabria è così? io che a volte si sono l'accedente io sono l'accedente no no è una diversa storia perché i due veneti di due province diverse possono parlare tra di loro con due campanze la legge che impediva di parlare dialetto con me e con quanti saranno i veneti giorno? 5 milioni 5 milioni di veneti non ha avuto alcun risultato io sono dialetto e parlo il mio dialetto con tutti i veneti perché da noi c'è una coinette dialettale allora ti spiegare praticamente questo invece di tagliare i corsi di sociolinguistica e di tagliare gli insegnamenti di linguistica generale in favore di un'ipotetica linguistica italiana no che è una linguistica molto all'acqua di rose la linguistica del professor De Mauro e la linguistica di questi grandi patonte di questi grandi patonte della linguistica che adesso si sono un po' addolciti e quindi raccontano quello che è facile raccontare ci vuole un gioccoloduro che rispiega alle persone i concetti perché se no tutti possiamo parlare di tutto e poi alla domanda come la sua non si risponde si risponde io le dico lei parlerà sarà una sua scelta ma lo fa con la signorina con la signora che non lo può fare con lei che è della provincia di Crotone o con un'altra persona se lei sapesse come è fatta la sua regione si sarebbe risposta da sola e noi questo lo scriviamo da anni scusate unitarci poi faccio 5 macro regioni della Calabria poi che si sviluppano in centinaia di micro regioni sono molto interno è molto problematica la Calabria perché non ha nessuna unità interna per queste prodotte dei secoli la Calabria muore politicamente nel 1269 con la morte permesso da un papa di un noto principe di potere di un noto imperatore i principi non si ammalzavano si riscattavano voler ammalzarlo era un atto politico cioè il sud deve servire deve venire con noi basta a togliere tutti i capi come gli inglesi hanno fatto in Gales nel 1289 la stessa cosa vent'anni dopo 12 fratelli sono scomparsi tre bruciati sul rovo uno che era un vescovo non poteva essere ammalzato ufficialmente allora sparisce guardando un fiume c'è la stessa cosa allora sono antipolitici nel tempo Gales recupera ma la Calaver non si recupera più dopo 1260 anni anche spaccate in mille pezzi sempre poi c'è il problema quando ha da fare cioè c'è un continuo rapporto tra storia e venimenziale che può andare quando è negativo può andare verso il campanerismo il razzismo eccetera eccetera tra quello è la grande storia che sono sempre in conflitto ma in rapporto con l'altro e tutto dipende dalla tua storia interna ogni regione ogni paese va guardato dal punto di vista della propria storia politica e come la storia della lingua dicono dico sempre gli studenti non si sceglie non si sceglie Dante, Petrarchia, Bocaccio per motivi estetici come viene insegnata a scuola sono motivi politici ben precisi cioè i papi volevano i due papi medici di cui Bembo faceva il segretario così lui è stato eletto volevano una lingua che poteva sostenere il latino ergo una lingua come il latino cioè una lingua morta quindi il toscano morto l'italiano nasce morto ma questo è voluto un atto politico e andate a guardare i libri io l'ho troppo e rientrata in termini socio anche economici spiego anche che i banchieri che facevano e disfacevano papi dal 5600 erano come i banchieri di oggi insomma erano altrettanto corrotti come basta leggere il carteggio privato di Lorenzo dei Medici perché nessuno va a guardare in genere perché sono scritture incomprensibili se non conosci i gerghi della malavita un grande letterato che scrive il gergo della malavita da banchiere però sì perché non racconti di questi due ultimi esempi di uso creativo di una lingua inventata come il gergo dei calderai o è inventata perché non è una lingua storico naturale no per fini artistici perché forse le persone sono interessate a questo quello è la controduzione di Beckett sono due cose come gli antipoli no? sì c'erano due sindaci che hanno detto oh questo ho capito nel mio dialetto oh po voi parlate di dialetti diversi ho scritto un dialetto che non è di nessuno ho scritto appositamente un dialetto che non è di nessuno perché Beckett merita questo sta parlando della fine del mondo sì l'esperimento di usare il maschicante l'abbiamo fatto anche questo i delos che si sono musicato eccetera tutti dicono ma che lingua dico ha una certa affinità con la lingua dei pizzini è la lingua dei metallurgici da sempre dei forgiari dei quadrari eccetera eccetera la nascita del gergo tra i tre e quattrocenti molto in comune con Vion anche lui usa il gergo per motivi artistici e ci sono usi artistici nel gergo durante i secoli anche in Francia anche usi criminali e anticriminali criminali il carteggio privato di banchieri anticriminali l'esplicazione è data da Vidoc come capo polizia di Parigi dell'ottacento che poi finiscono nei romanzi sociali di geni geni su e altri su c'è tutta una tradizione francese ma vabbè però l'uso anche si non usa però per non diventare è gergari gli evitano ne parlano perché i socialisti come Roschi in Calabria dovevano parlare delle cose popolari ma non dovevano parlarne in dialetto quando parla delle fiabe popolari li trascrive ne parla in italiano perché questi primi socialisti dal fine ottocento dovevano nobilitare l'uomo semplice però non usare il suo codice ma attenzione non cadere dal codice ma ci sono delle cose conflittuali durante i secoli però l'uso artistico è costante c'è l'uso artistico da avion fino fino al dedo lo ste oggi fino a alcuni usi anche anche dialettali Fanges Froschi non è un leghista anzi è il contrario chi sono gli altri cantanti che usano appunto la pittura fresca mi ricorda il menesiano il cantano chi andrà solo i vari gruppi ah lo so è quelli di Rossano prima della spaccatura tra i loro e pesanti prima di spaccarsi più pena più pena insomma la salute di cazzo insomma ci sono vari i gruppi che cercano di usare questi codici per contenire artistico per gli sperimenti il problema io credo antropologico appunto per usare una parola che ci accomuna è proprio questo che bisogna stare molto attenti perché quando io avendo avuto a che fare con la lega nella mia regione quando si propone di reintrodurre o di tutelare il dialetto c'è una versione buona ce n'è una in buona fede e una in cattiva fede e una inutile soprattutto perché parliamoci chiaro il mondo montanino non esiste più quasi nemmeno in Calabria per cui non le parole ma le pratiche perché un'altra differenza magari tra un approccio più così amatoriale è il nostro è che noi non seguiamo le parole perché le parole non stanno in autonomia le parole stanno insieme e allora quando si diceva intere pratiche con le parole attaccate per semplificare stiamo parlando di cose che non esistono più allora un ragazzo che si sente di usare il proprio dialetto per fare musica come lo fanno in varie regioni da almeno vent'anni gruppi che l'hanno usato per fare rap per fare musica non tradizionale o chinto tradizionale è un'esigenza sentita ma se uno non fa l'etnologo l'antropologo il sociolinguista all'università che senso ha a un ragazzo che non ha rapporti col mondo contadino parlarvi del dialetto in cui ci sono nomi per tre tagli di fieno dalle mie parti o per le tre quattro età della pecora in Calabria non so che rapporto intimo abbiate voi con le pecore quante le vediate se le vedete da piccole da medie da grandi penso di no quindi che un ragazzo di vent'anni impari che si chiama sciabana che cosa gliene può importare cioè quella è una scena autonoma per cui io recupero non può passare da lì io sono perplessa su questo cioè lo studioso si interessa di questo ma generalizzare questo tipo di interesse è astorico è astorico nel senso che purtroppo io so che qui vado contro il comune sentire i buoni sentimenti ma le lingue muoiono si muovono nel tempo si muovono nel tempo non sono morti come l'italiano il mio dialetto non è quello di mia nonna non lo può essere io so le parole di mia nonna perché sono una studiosa se forse non possiamo risuscitare i dialetti sarebbe una cosa che non vi appartiene più di questo bisogna piaccare il romanticismo e farsene un minimo una ragione questa è la mia posizione un po' laica ma lavorare lavorare su questo non credo che sia romanticismo perché abbiamo recuperato determinati attrezzi contadini con le varie edizioni a seconda dei luoghi io credo che si stampino all'oblio allora l'uso quotidiano diciamo di quelle parole di quel codice di quel musei esistono ci sono sempre esistiti musei contadini ci sono sì musei ci sono le persone quando parlano in genere non si chiedono non si fanno domande sull'etimologia di una parola non si chiede se un tempo deriva da latino da un tempo del latino piuttosto che da un altro non mi sono nessuno so dire andiamo a ricostruire in realtà non mi posso dire perché spesso quando siamo dei termini con lei ma anche in casa ci vediamo con lei con le scienze metalinguisticamente ma ci mettiamo parlare che non stanno volendo se vi danno un uomo che cosa avete parlato di un uomo quante lingue quante lingue muoiono ogni giorno dalla vostra esistenza questa persona muoiono lingue di gruppi che muoiono di parlanti non si sa che stanno io dico la gallese che l'irlandese sta morendo perché trovare uno che parla spontaneamente gaelico tra i pescatori quelli che non parlano come sono quasi adesso sono l'inqualibile romantica magari sono anche l'ignorante in materia però rimango per essere appensionata dell'elettro che è stato qualche tempesta però spesso mi cambia di citare le frasi di mia nonna e poi ignoro completamente l'origine però le cito passa passa da noi lo spieghiamo la differenza che facciamo noi studiosi è quando viene usata normalmente senza pensarci non è la chiosa sulla lingua la riflessione sulla lingua è venuta prima della lingua e credo che gli uomini prima abbiano riflettuto su quello gli ingiziani che metteranno i due neonati dentro la cina il successo è 3000 anni fa questa prima lì si può fare la respirazione bocca a bocca lei però questo è il discorso qua nella protolingua qua nel modo per farla rivista se andiamo nella direzione di volerla ancora utilizzare oppure stiamo lì ad aspettare l'ultimo agonia non si può cambiare la nostra posizione ma non è l'ultimo non puoi cambiare il corso della storia non si può cambiare molte persone dicono che si può gli ebrei sono gli unici che sono riusciti ma non so fino a che punto hanno fatto rivivere l'ebraico ma l'ebraico adesso non è più l'ebraico della Bibbia insomma è un altro tipo di ebraico perché non lo usavano non lo usano più il caso costrutto usano Shekler come la preposizione cioè gli arabi ancora usano il caso costrutto adesso mi raccontano che è compilato con lei siamo cambiati di giro usano preposizioni come le lingue che avevano imparato la storia ma i muri della parete non è una base insomma che mi ha detto una grossa difficoltà io mi chiedo se c'è qualcosa di scritto perché noi parliamo in dialetto ma in parlato da quello scritto sembrano due cose che non erano diverse sono due cose diverse perché noi abbiamo avuto difficoltà perché piccoli in segnarello rimango sulla parete tutto aveva uno scritto in dialetto questo lo fa come ricordo nel locale insomma potete andarlo vedere chi era una delica da parte al cuoco perché ci era piaciuto tra l'altro il cuoco romano e anche i calabri però abbiamo avuto delle grosse difficoltà su una parola ci siamo guardati come si scrive si esatto quella è un po' se si istruisce un linguista perché si possa catapultare in un paese africano e il giorno dopo comincia parlando con le persone a mettere a posto però devi tener conto anche odi intergruppo perché un mio amico l'ha fatto in un paese dell'Uganda una volta è casicata ma guerra perché ha dato sostanza grafica a una lingua di maggioranza la minoranza sono andati in giro a ammazzare gli altri poi non vuole alla fine sono tutti messi la parola l'inglese insieme o francese altri paesi insomma ti prende come gli indiani gli indiani comunicano rispondi invece che parlando delle lingue africane perché una signorina ha avuto difficoltà perché ha avuto difficoltà ero tanto curiosa difficoltà a scrivere in calabrese a scrivere in calabrese non ha un training da linguista probabilmente sta dicendo una cosa diversa a calabrese si scrive o non si scrive ecco questa è una coltiva ah come quel famoso zingaro che si è incavolato con me una volta nel tribunale che lo zingaro non si può scrivere dico qualsiasi diretto indiano si può scrivere dipende dall'alfabeto ma si perché non è associato alla scrittura nessun calabrese è conscio dei tentativi di scrivere cose letterarie e in calabrese che esistono dal 1400 almeno non sono consolidate solo anche le 400 c'è già un grado di toscanizzazione insomma dei testi anche il famoso il morte di il referente eccetera no c'è una letteratura di elite scritta da nobili quasi in calabria non è come il veneto dove si scrive alle croniche e le cose delle riunioni in dialetto cioè sappiamo cosa pensavano in un doge perché qualche dono ha messo una sua battuta in dialetto dentro a un verbale che non c'è una grafia consolidata sì ma Marta è un processo sofferto che dura secoli in genere concordare in una comunità su una grafia è un atto anche politico anche sociale che dura secoli cioè siamo tutti d'accordo a scrivere in questo modo se da secoli in calabria si fossero messi d'accordo come avvenuto in altre situazioni che si scrive puntino nuvoletta tratto a zilzate basta guardare la storia del francese come scrive una finanza e tutti lo scrivono così non è una legge quasi impossibile legge uno scrive uno scrive sdr un altro scrive cioè prova a inventarsi dei modi però ognuno di noi se ne inventano diverso non c'è una grafia che c'è comune tutti noi non lo sappiamo fare se e quanto succedesse qui gli andanesi hanno lo stesso problema però c'è un problema perché la stessa graficizzazione o quello che vuoi dell'albanese in Albania è anche dovuto a italoalbanesi anche noi in Albania è stato un atto politico si un atto politico ma a Monastir ci contribuivano anche gli italoalbanesi e gli albanesi della diaspora la eco a due punti è dovuta ad Erada eccetera però oggi che grazie ad una legge grazie a tanta letteratura che si è formata in questi paesi albanesi hanno anche loro nei diversi comuni difficoltà di presentare almeno i documenti ufficiali con una cosa almeno quelli non dico l'uso parlato perché quello è vero non si può si mi ricordo i tentativi di scrivere dal papà del nostro allievo che sapeva scrivere l'italiano ma non aveva la minima idea di come scrive l'albanese riuscivano delle cose molto interessanti su come pronunciava l'albanese la sua tira via le sbagli scriveva cose che servise sono tutti consolanti perché dice ma era automatico perché ne hai parlato un po' la sua tante si può cadere si e allora ha cercato di mettere in qualche modo ma non sapeva che si vuole usare però interessanti ci provava anche no ci sono dei tentativi anche grazie al contenuto della casa in quel caso la scuola è completamente in italiano e in italiano insomma posso dire un paio di cose se ci fosse una scuola con interventi chi lo forme di le leggi italiane sono anche confuse sono confuse su cose di obbligaranza sono confuse la legge non è neanche chiara in sé l'ho detto una volta a certi senatori della Repubblica mi hanno riso in faccia perché hanno detto ma tu sei glottologo allora te che crei questa maniera di confusione cosa sei un incompetente scusa c'era qualche cosa volevo dire due cose una era una domanda che mi sono sempre posta è che la professoressa campanella di Giaetti Calabresi mi ha fatto tornare in mente cioè io avendo fatto da studente fuori sedia ho vissuto diciamo un attore di Babbele con gente di Oriolo di San Giovanni in Fiori di Gioia di Corigliano gente di Gili Falco gente di Regine a non finire ma è una mia impressione o il Calabrese è molto più vario rispetto alle altre regioni italiane vedete non ha mai avuto un'unità politica da 1269 e quindi è così cioè nelle altre regioni è voluto a questo io non conosco che ne so il campano campano molto più uniforme ci sono delle differenze magari sì Napoli sì riesco a percepire qualche differenza tra una delle linee però non c'è questa differenza di sale io sono di Corigliano non capisco i rossanesi sì ma questo è un prodotto della storia una storia anche voluta dalla politica in alto quindi è così quindi è così dal punto di vista linguistico che la Calabrese è molto più varia delle altre il siciliano il siciliano nel siciliano c'è un è un apposito di accademia c'è una cosa interessante prima dell'unificazione d'Italia gli siciliani volevano crearsi il nuovo principato un'altra volta allora Giovanni Meli quando creano l'Accademia di Palermo all'inizio dell'Ottocento durante le cose e dopo cerca di creare un un'accoglione siciliana all'Oceano sempre questa tendenza i siciliani noi abbiamo lo Stato e di qualche tipo cioè nonostante gli italiani e il resto del mondo allora e lui ha scritto anche i trattati di filosofia in un dialetto che non è cioè cercavano di imporre una specie di palermitano dotto alto su tutta la Sicilia c'è questa continua tendenza poi arriva l'unificazione dell'Italia ma vabbè tutto finisce niente però è interessante che c'è questo movimento storico Giovanni Meli è l'Accademia di Palermo molto famoso non esiste nulla di simile in Calabria non c'è nessuna mossa da parte di Calabresi c'è un mossa istituzionale quasi di tutta la nobiltà l'alta borghesia siciliana a creare una nuova lingua siciliana adatta per creare un nuovo stato sicuro prima ancora dell'unificazione d'Italia questo è il momento in cui nasce anche la mafia ma non importa nascono tante cose in quel periodo poi appare la parola adesso 1826 un'altra cosa era proprio di recente mi è capitato di prendere in giro un mio amico una serie di miei amici che parla cioè ascoltano molto di più l'inglese quasi che l'italiano perché magari hanno i telefilm in lingua originale oppure hanno contatti con altre persone allora io risposto dicendo che parlano l'italiano hamburgeronico perché italianizzano le termine che non sono italiane sì no dei false friends praticamente tradotti come capita e perché informatici sono i peggiori e sono informatici si parla una specie di boom come la chiamano quindi l'italiano in italiano in ingleano hamburgeronico hamburgeronico hamburger si ha capito come si per codice magari come l'anglish giapponese si un po' medici bar si anche in quel caso non si può intervendere che succede e basta si succede appunto di titolo di titolo di titolo di titolo si ma è orribile pensare ad una legge che dice beh da domani i bambini a scuola non sognano il mio agito la parola verranno messi nell'angolo non sognano il gillo sono qua è un masso morto è mandatorio fare questo è mandatorio fare questo ma i napoletani però vanno avanti con le loro parole dentro la rete anche i veneti hanno creato reti in dialetto basta vedere anche il linguaggio delle chat come è diverso non solo credono di aver inventato dei simboli che i frati monaci hanno inventato 1500 anni fa ma insomma il terzo tutti i simbolini che usano sono già stati inventati molto tempo da monaci basta leggere cosa scrivevano monaci greci con 300 segnetti nel benio euro come sempre quella è la risposta c'è una trasmissione su radio 3 che io avevo cominciato a seguire come entusiasmo che si chiama la lingua parte e che mi ha deluso dato che sono subito cancellata perché proprio sabato scorso parlava di questo allora una storica della lingua che era sui unici linguisti sul mercato diceva il problema che anche il fascismo ha trovato però c'è riuscito con alcune parole c'è riuscito con molte altre no perché chi fa il linguista sa che le lingue sono come i gatti selvatici metterli nel trasportino è molto difficile allora questa storica della lingua diceva ci sono delle parole ormai tipo mouse te lo tieni da un lodare al limite no no tu mi critichi già se lo dico da quello perché a me dà fastidio fisicamente sì vabbè è una cosa estetica non è linguistica e diceva però le parole nuove tipo quelle che citava lei siccome sono nuove sono ancora fresche facciamo il tempo a proibirle io la vorrei vedere come fanno i francesi sì i francesi la fanno l'accademia c'è la funzione dell'accademia la conservazione della lingua ufficiale sì ma esiste ma sa chi ha inventato l'accademia una famosa italiana sì ma i francesi ci riescono per ora a me che avevo di parlare con i francesi di musicisti non si capiva Jimi Hendrix chi è Jimi Hendrix? ah Jimi Hendrix ci ho messo mezz'ora a capire ma dovevo fare la canzone ma non le quelle l'ordinateur eccetera in Spagna il raton sì il raton quantos ratones tiene sì sì non c'è un po' i zoccoloni del crani ma a parte che ce ne caccia io credo che però cosa detto in parole il problema non è tanto quello di essere attenti a un godare e questo genere è che se uno ha una cultura bella grande legge molto parla molto molto intelligente tutto questo non gli fa male il problema è che siamo pretini ignoranti e mediamente e quindi andiamo a togliere a togliere quello che ci resta è quasi mio è felice avere una babbella e di lingue ci fa bene è già felice ma l'anno rientrata con il crani o il 48000 persone che non sanno agli altri cosa non sono morito tutti i soldi vanno a leggere eh ma ma sì sì è un'ordine non male anche io ho voluto un po' è un'ordine contro i mali gli assessori leggere lasciate un po' e ripetiamo come fanno cose solo per altri mostri lei dice una cosa allora è stato un piacere sì effettivamente dopo tanto è stato un po' Grazie.